Musica Qui studio dal Palaschio, Argine 3, Schio 2, sono qui con il coach Davide. Allora Davide, com'è andata questa partita e le ragazze? Allora la partita è andata abbastanza bene, abbiamo vinto 3-2 però come sempre sono i piccoli errori di distrazione che poi alla fine ci penalizzano sul risultato. Durante il discorso in pre partita ho chiesto alle ragazze di essere un gruppo unito, ho chiesto alle ragazze di non mollare ogni pallone perché l'obiettivo era abbastanza grande. E quindi sapevo che per loro portare a casa 3 punti o meglio portare a casa una vittoria per loro significava acquisire coraggio e quindi riuscire a credere un po' più in loro stesse. Abbiamo vinto al tie-break, ci sono stati momenti che ci siamo fatti raggiungere, anche al tie-break abbiamo fatto un cambio campo sull'8-5, siamo arrivati ai 13 pari. In un momento molto decisivo per la partita dove la questione mentale è molto importante e le ragazze hanno saputo mantenere la lucidità tale per portare a casa i due punti. Quindi bene così e ci sia spunto per fare sempre meglio e portare a casa qualche bel risultato. Ok, grazie Davide, a voi studio!